Nome e cognome e che cosa spinge a fare il cimento invernale il giorno di Santo Stefano dopo Natale? Il cimento invernale è una bellissima esperienza, io amo il cimento invernale, amo l'acqua, l'acqua 12 mesi all'anno, il sole se c'è va bene, se non c'è va bene lo stesso, l'importante è il contatto con l'acqua fredda che è il contatto con il mare finalmente nostro, finalmente senza altre persone che lo occupano perché noi possiamo godere di questa magnifica immersione, ci dà salute, ci dà felicità e ci dà gioia. A che cimento siamo? Non li conto più, io ho cominciato a fare i cimenti, tutti i weekend faccio un bagno, da sempre, da tanto tempo e i cimenti mi sono sempre stato un po' alla larga, poi alla fine mi piace fare una cosa un po' appartata, un po' per conto mio perché è un rapporto fra me e il mare, invece ogni tanto trovare altri matti come me che hanno la stessa passione è divertente, quindi da un paio d'anni anch'io faccio i cimenti insieme agli altri. Come si chiama? Il mio nome è Marco, Marco Pesce.